Il Garage Morelli è il parcheggio più bello al mondo. A decretarlo una giuria di esperti di design urbanistica selezionata da due big media, Design Curial e Looking For, coordinati rispettivamente da Sophie Kilfip e Martin Mansell. Architettura, ingegneria, arte ed archeologia è tutto ciò che rappresenta il parcheggio Quick Morelli, inaugurato nel 2011 e che si è giudicato la terza edizione del premio World's Coldest Car Park. In pratica la struttura immersa nella storia cittadina è la più bella al mondo. Soddisfatto il patron Massimo Vernetti. È un riconoscimento fantastico, devo essere sincero sono ancora emozionato perché non me l'aspettavo ovviamente perché chi veramente ci mette il cuore poi non è che deve avere l'arroganza di pensare che arriva prima, ci ha messo il cuore, poi gli altri lo devono vedere e hanno visto dall'Australia all'America, agli Stati Uniti, all'Inghilterra, abbiamo, devo dire, avuto riconoscimenti planetari e questo per noi è veramente una grandissima emozione ed è soprattutto, diciamo così, riconoscimento a tutti gli operatori che hanno fatto insieme a me questa attività e questo lavoro. Un parcheggio che per come è stato costruito non è migliorabile, è un'eccellenza del nostro territorio, un'eccellenza che va salvaguardata e va conservata al meglio. Questo è il pensiero di Amedeo Manzo, presidente della BCC di Napoli, finanziatore del progetto. Io c'ero il giorno dell'inaugurazione col Cardinale Sepe quando è stata apposta la targa dove si apriva questa straordinaria opera di fantasia, di cultura, di coraggio, di energia che viene da Napoli, io c'ero. Mi fa piacere che il mondo dell'impresa possa annoverare figure come Vernetti, come Petrone che hanno fatto in modo di recuperare una parte importantissima della città dedicandola giustamente all'innovazione. Il premio che prendono oggi, ma è soltanto il secondo o terzo, forse il più importante, è la giusta e tangibile dimostrazione che chi vuole può fare e che perseverando si possa raggiungere grandi obiettivi, grandi risultati e il fatto che la nostra banca è qui presente con un Bancomat da 7 anni vicino a questa azienda è la testimonianza che le banche di territorio interpretano le esigenze delle persone, delle imprese e soprattutto ne accompagnano i successi.